Quasi 50 dei 303 milioni di euro di contributi europei per l'agricoltura finiscono nelle casse di assicurazioni, banche e grandi gruppi industriali. Una casta di intoccabili che ricevono il 12,5% delle risorse destinate all'agricoltura pugliese perché possiedono terreni che non vengono coltivati. In molti casi non contribuiscono alla previdenza agricola, in altri hanno creato società per avere agevolazioni sull'Imu, sulla concessione di Lizia, sull'acquisto dei terreni agricoli, facendo concorrenza sleale ai veri agricoltori. Non succede solo in Italia, pare che anche la regina d'Inghilterra incassi i contributi per i suoi terreni. Ebbene con la nuova PAC, la PACchia potrebbe finire. Una lista nera escluderebbe? Ma assicurazioni, fondazioni, tutti coloro che non vivono aeroporti, pensi che erano aeroporti che prendevano i fondi della comunità europea. Una lista nera che escluda chi non vive e lavora di agricoltura sarebbe prevista nell'accordo sulla riforma della politica agricola comunitaria, ormai in dirittura d'arrivo, per eliminare in un contesto di tagli e minori risorse le rendite fondiarie. Col Diretti combatte questa battaglia da molti anni, già dal 2007-2013. Ora con la nuova programmazione abbiamo chiesto e ottenuto che ci fosse una blacklist allargata dove alcuni enti non potranno più accedere ai fondi. Abbiamo bisogno di giovani che hanno voglia di dimostrare il coraggio di voler fare impresa ed è necessario anche che ci sia un'alta formazione.